Dopo il brutto incendio che nei giorni scorsi ha interessato la zona dietro al cimitero di Paganica, parte una raccolta fondi per ristorare gli agricoltori e gli allevatori che hanno avuto danni. Ad attivarla l'ASBUC, l'amministrazione separata degli usi civici di Paganica e San Gregorio, con il presidente Ferdinando Galletti. Chi volesse aiutare può farlo, facendo una donazione, recandosi al centro civico di Paganica, tutti i giorni dalle 18 alle 20, ma anche il sabato dalle 9 alle 13, in un banchetto davanti al monumento dei caduti in piazza e la domenica, sempre nell'assessorario, dinanzi la chiesa degli angeli custodi in via San Giustino. Anche nelle attività commerciali di Paganica ci sono degli appositi bussolotti per raccogliere fondi, ma è stato aperto anche un conto corrente. In poche parole, perché gli si è bruciato il foraggio, gli si sono bruciate le macchine per dissuotare il terreno, raccogliere il secondo taglio del foraggio, solo una fortuna che oggi le bestie sono all'alpeggio, ma fra un mese torneranno e non avranno che mangiarsi, non sapranno come fare amarsi e quindi dobbiamo provvedere celermente e velocemente a trovargli qualche cosa, a dargli un aiuto sostanziale. Due o tre sono sicuri perché quelli che hanno avuto più danni bruciate la stalla, le macchine e poi intorno tutte le stalle e stallette che dobbiamo quantizzare e vedere chi sono. Intanto abbiamo attivato tutto, abbiamo messo dei bussolotti dentro i bar perché questo è stato voluto dalla categoria dei barristi. Abbiamo attivato un conto corrente che è già operativo e in più usciamo noi come si faceva una volta, con la questua a porta a porta, lasciando una regolare ricevuta. Il presidente Galletti spiega che si sta attivando anche per procedere ad una raccolta del fieno. Io sto pensando di attivare una raccolta fieno per tutti coloro che vogliono portare qualche ballone di fieno, qualche balla di paia per sostenere fra qualche mese il ritorno di questa gente con le sue mangi.